Chi è Paolo Meola? Paolo Meola è un collega e un concittadino. Una di quelle persone che se giri per Milano ti chiedono Ah, sei di Genova? Quindi conosci Paolo Meola. E che se giri per Genova ti chiedono Ah, fai la Bocconi? Quindi conosci Paolo Meola. Perché aiutarlo o dargli una mano o dei soldi? Innanzitutto non vi spiego la razionalità di scommettere su una persona che scommette sulle scommesse. Per il resto potrei dirvi altre 120 parole in inglese difficili, complicate, ma credo che lui sarà molto più in grado di me, ha studiato per questo. E perché picchiarlo? Ah, ci sono passate più divertenti, volete saperne qualcuno?